E devo dire che la prima impressione di Madre Vinovila toglie davvero il sciato, questo è quello che si vede. Detto da chi quello straordinario spettacolo l'ha visto dal vivo, fa ancora più effetto agli studenti ammirati. Tra loro più d'uno con la bocca spalancata lì ad ascoltarlo. Lui è Umberto Guidoni, astrofisico e soprattutto astronauta. Certo, la barba e i radi capelli incanutiti fanno subito capire che nello spazio lo stellare ospite di stamane dello Scarano di Trivento c'è stato un po' di tempo fa. A bordo dello Space Shuttle l'italiano è stato il primo astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale. Anche se dai suoi occhi vivaci non trapela, sono trascorsi più di vent'anni. Dai primi anni del 2000 tanto è cambiato, ad esempio, il progetto di basi spaziali permanenti abitate da esseri umani. Era poco più di un'ipotesi. Ora invece... Ma stiamo andando in quella direzione, nel senso che l'esperienza che abbiamo fatto con la Stazione Spaziale Internazionale, ormai sono più di vent'anni che è in orbita, sempre abitata, ha dato il via allo sviluppo di tecnologie che permettono di realizzare basi private. Questa è una delle novità, il ruolo che i privati stanno giocando sia nel trasporto ma anche nella realizzazione di habitat. Ma Guidoni è qui in Molise soprattutto per lanciare un messaggio ai ragazzi. I sogni, se nutriti dalla passione e dall'impegno, possono diventare così grandi da trasformarsi in realtà. Lui, la sua vita, le sue imprese, l'esempio, grazie all'iniziativa odierna, da toccare con mano. Di sogni Guidoni ancora ne ha, ma ora i suoi non vanno oltre i confini del mondo. A proposito del ritorno nello spazio. Io tornerei, è che non ho più l'età per farlo e soprattutto nel frattempo sono cambiati anche i veicoli. Io ho viaggiato sullo Space Shuttle, ormai un veicolo che è in un museo, quindi un po' mi sento appartenere a un'altra generazione. A proposito del ritorno nello spazio.